Arex basta, oh bastatore scusami ma mi casa troppo questa musica Allora ragazzi bentornati a questo kaiju game, kaiju chi è? Kaiju game, cioè gioco dei kaiju, ma mica si chiama così, va bene l'ho voluto chiamare così ok, va bene scusa, allora vediamo un po' cosa abbiamo da fare oggi, startiamo Bene, io direi che oggi possiamo cambiare personaggio, si sono d'accordo, per quanto mi piaccia questo lupo ho voglia di provare creature nuove Dai vediamo un po' che mostri abbiamo, si vediamo un po', abbiamo questo super mega troll mastodontico, che c'è scritto qua? Am I fat? Cioè io sono grasso? Ma no non sei grasso, sei solo di costituzione robusta, comunque ha una faccia decisamente inquietante ragazzi Però l'arma è figa, si è vero ha un'arma proprio bella, anche i tatuaggi sono niente male Però non mi ispira del tutto, se proprio devo scegliere preferisco il lupo Infatti lui è molto più epico, poi i colori mi piacciono molto di più, c'è questo rosso e nero che, mamma mia, è spettacolare Prova ad andare avanti, magari ce ne sono altri Giusto, giusto, allora abbiamo, guarda, 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 guarda con quale potenza spara il suo raggio Sì, abbiamo capito, bastatore, andiamo avanti Ok, lui l'abbiamo già visto Ma abbiamo Godzilla Ma come abbiamo fatto a non notarlo fino ad ora? No ragazzi, è bellissimo, è bellissimo Cioè guarda, guarda che potenza Si sta stiracchiando, guarda, ha sonno Ma non ha sonno, dai A me sembra di sì, guarda Sembra proprio che faccio Mamma mia, voglio dormire Arex, smettila E dopo Godzilla che c'è? Vediamo subito Oddio, e questo cos'è? Nuovo becchistrano Sembra, sembra un albero Sì, è un albero coloratissimo tra l'altro Ma cosa fa esattamente, scaccia le moschie? Ma va, sicuramente vuole distruggere qualche casa Comunque è bellissimo Non voglio offendere nessuno, bastatore Però io lo vedo molto appetitoso Appetitoso? Eh beh sì, non dimenticare che io sono vegetariano Però in genere le piante che mangio io non si muovono Non hanno gli occhi e non hanno nemmeno le braccia Perciò, non lo so, mi sento un po' in colpa a considerarlo appetitoso Cioè, non lo so, più lo guardo e più mi viene voglia di mangiarlo No, vai avanti, bastatore, vai avanti No, no, mi sento un brutto dinosauro Ma dai, Arex, io mi nutro di creature vive ogni giorno Ma io no, bastatore Non sono abituato a mangiare cose che si muovono Vabbè, ma è comunque una pianta Ma è una pianta viva Ma le piante sono vive, Arex Sì, ma non si muovono, questa si muove In realtà le piante si muovono Le piante si muovono Sì, certo che si muovono Magari non si muovono come gli animali, ma si muovono Oh, bastatore, basta, cambiamo discorso Altrimenti va a finire che mangerò le pietre Vabbè, andiamo avanti Caspita, ma questo è un grifone Cos'è un polpettone? Ma che polpettone, Arex? È un grifone Un buffone? Ma non mi sembra il caso di offenderlo così Un grifone, Arex, un grifone Ah, aspetta, aspetta, aspetta I grifonchi sono quegli animali metà leoni Sì, il grifone è metà leone e metà falco Ah, giusto, giusto Comunque è molto figo, ragazzi Cioè, guardate Non vedo l'ora di usarli tutti Poi, chi altro c'è? Poi abbiamo... No, vabbè, ragazzi, anche questo è stupendo Cioè, tamarrissimo, ma è stupendo È vero, è una sorta di dinosauro con l'armatura È vero, ha l'armatura, il martello Ma soprattutto delle braccia grandi e muscolose Proprio come te, vastatore Mi stai prendendo in giro? Mi stai prendendo in giro? No, 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 stavo solo scherzando, stavo solo scherzando Pensa alle tue di braccia Va bene, va bene Dai, andiamo avanti Poi vediamo chi altro abbiamo Oh, vabbè, bellissimo Ma cos'è? Una mummia? Sì, beh, assomiglia ad una mummia O ad uno zombie, non so Un morto che cammina, insomma Con gli occhi sparaflesciati di verde Mamma mia, è inquietantissimo Però mi piace A me fa un po' paura Sì, beh, è questo il bello, Arex Cioè, guardate le bende, poi Cioè, sono tutte colorate Sembrano pezzi di giornale, credo Mi sa di sì Sul sedere ha un pezzo di scatola degli Oreo? Eh, sulla chiappa sinistra c'è scritto Oral B Cioè, ha il sedere che fa pubblicità Ma che cavolo significa? Ah, non lo so, non chiederlo a me, Arex È piuttosto strano Cioè, sembra che qualcuno abbia preso dei manifesti pubblicitari E li abbia modellati a forma di persona Giusta osservazione, Arex Comunque, andiamo avanti E questa cos'è? Oddio, ma che strana Cioè, è una creatura metà aquila e metà donna Cioè, ma veramente? È spettacolare A me fa un po' paura E vabbè, ma a te fa paura tutto, Arex Cioè, dai, guardala Non ho mai visto un uccello con la testa di una persona E vabbè, c'è sempre la prima volta, Arex Andiamo avanti Oddio, una chimera! Una pera? Ma a me non sembra una pera! Non ho detto pera, Arex Ho detto chimera È una creatura mitologica a metà leone, metà capra e metà serpente Ti fa male il dente? Ma allora dobbiamo andare dal dentista? Non ho detto che mi fa male il dente, Arex Questo è perché non te li lavio, Vastatore Se te li lavassi non ti verrebbero le carie Non mi fanno male i denti, Arex Ho detto che è una chimera La chimera è una creatura mitologica a metà leone, metà capra e metà serpente Capito? Serpente, non dente Ah, sì, ho capito E comunque è davvero bellissima Cioè, guardate che spettacolo Guardate quanto è minacciosa Io più la guardo e più mi metto esoggezione Lo so, la amo Andiamo avanti Caspita ragazzi, guardate Ma, vabbè, è un demone coloratissimo No, vabbè, guardate quelle corna E guardate quelle ali Cioè, sono fantastiche E guardate la pelle rossa e blu No ragazzi, è fantastico Ma poi ha anche due piccole corna sotto il mento Vero, non è fighissimo Sì, però, perché ci sorride così? Perché è un demone spietato Sì, ma ci sorride Sì, sorride in modo maligno Ma perché sorride così proprio a noi? Perché deve far paura, Arex Mamma mia, dai, andiamo avanti Me la sto facendo sotto No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè Oddio, ma è una creatura a tre teste Che meraviglia, ragazzi Ok, lo so che stiamo perdendo un sacco di tempo Nel commentare le varie creature Però, c'è veramente tanto da dire C'è tanto da vedere Perciò credo che in questo gameplay Per lo più parleremo e basta Ma sì, dai, magari giochiamo la prossima volta Qui ci sono davvero tante cose di cui parlare È vero, innanzitutto Guardiamo bene i dettagli di questa creatura Cioè, sembra un misto tra un varano di komodo Un posto sucus e un drago a tre teste Non saprei davvero quale scegliere Tra questo, cioè, sono veramente due mostri pazzeschi Però questo, non lo so, è di un'epicità epica Di un'epicità epica? E che significa? Significa che è talmente epico da essere epicamente epico, Arex Oggi parli in modo strano, bastatore Scusa, ma non potevo esprimermi in altri modi Dai, vai avanti Poi abbiamo... No, vabbè, no, vabbè Ma è un drago! È un drago spettacolare! Ragazzi, guardate! Cioè, guardate quella coda! Guardate quella coda con gli spuntoni! Anche le ali sono bellissime! Poi è viola, capisci, Arex? È viola! È viola proprio come me! Cioè, se io fossi un drago sarei uguale a lui! Sì, saresti uguale a lui, ma con i denti più gialli e anche più brutto Farò finta di non aver sentito Ma poi è pieno di spuntoni! Guardate i gomiti! Se vi arriva una gomitata in faccia da parte sua vi trapassa il cranio! Oh, mamma mia, non voglio pensarci! No, ragazzi, questi mostri sono davvero uno più bello dell'altro! Poi, 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 poi chi abbiamo altro? Poi abbiamo lui! Ma è Kong! Allora, non credo sia Kong, però penso appartenga la stessa specie Sì, infatti, magari il fratello! Ma poi guardate quell'armatura, ragazzi, è spettacolare! Però da dietro sembra che abbia il pannolino Effettivamente, diciamo che è molto meglio davanti Sì, è vero, visto davanti è più epico Oh, eh, signor Kong, comunque noi siamo qui, eh! Quindi, non lo so, magari smettila di guardare per terra Magari ha visto qualcosa, vastatore Qualcosa? Cioè? Magari ha visto una cacca! Sì, giustamente, ha visto una cacca e ora si è messo a fissarla Ebbè, mi sembra giusto! Quindi tu, quando vedi cacchie per strada, ti fermi e le fissi Eh, certo, sono interessanti! Ma fammi il piacere, Arex! Poi abbiamo un altro Godzilla Eh, ok, questo è il nostro Godzilla, ragazzi Perché? Che differenza c'è con l'altro Godzilla? Allora, non ne sono sicuro, ma credo che cambi la luce sul dorso Tu dici? Andiamo a vedere? Ok, torniamo indietro No, aspetta, l'ho superato, eccolo Infatti, la luce di questo Godzilla è rossa! Quindi abbiamo due Godzilla, ragazzi Uno che spara raggi atomici rossi E l'altro che spara raggi atomici blu Io però preferisco quello che spara i raggi blu Sì, infatti, anch'io E poi anche lui si stiracchia, guarda! Hanno tutti sonno questi Godzilla! Ancora? Ma ti ho detto che non si sta stiracchiando! E allora cosa fa? Ma non lo so, chiedilo a lui! Signor Godzilla, perché tiri indietro la schiena e fai così con le braccia? E non risponde, pastatore Beh, certo, Alex, stai parlando con un gioco! Vabbè, ma io sono curioso di sapere perché fa così Comunque, non abbiamo altre creature da vedere, ragazzi Ma direi che già così sono tantissime Mamma mia, non vedo l'ora di usare questo Godzilla! Dai, la prossima volta iniziamo proprio da lui E vai! Quindi, bene, ragazzi! Il video finisce qui Lo so, oggi non abbiamo giocato Abbiamo per lo più commentato i vari mostri Ma spero vi siate divertiti lo stesso Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco Lasciateci tanti commenti su Instagram E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti!